Ho appena firmato l'ordinanza che aumenta le misure nei confronti del contenimento del coronavirus. Dalla mezzanotte di oggi scattano provvedimenti che prevedono la chiusura delle scuole di ogni ordine grado e la sospensione delle manifestazioni di pubblico spettacolo. È una scelta importante, maturata dopo 24 ore, d'attesa nel percorso fatto insieme al governo o alla prima di questa mattina, nella consapevolezza che la situazione a distanza di 24 ore sia ulteriormente aggravata. Un contagio a confine della nostra regione cattolica ci segnala che sono sempre più urgenti misure di contenimento. Bisogna affiancare a quelle che abbiamo seguito fino ad oggi, sulle quali bisogna insistere, quelle misure individuali, da lavarsi le mani, a fare attenzione nei luoghi in cui si va, a non stare troppo vicini a chi ha tosse e raffreddore, alla scelta di disinfettare i locali e così via, queste misure più importanti che evitando l'assemblamento delle persone riducono il rischio di contagio. È una settimana, durerà fino al 4, alla mezzanotte, è una scelta importante dove col contributo di tutti potremmo alginare e ampliarsi il contagio. Una scelta che riguarda la nostra salute e chiediamo a tutti quanti di attenersi scrupolosamente alle indicazioni, facendo ognuno il proprio dovere, sarà possibile fare una grandazione collettiva di contenimento della malattia.